Ringrazio per avermi invitata sia il professore Marra che Andrea Rossi e Maurizio Ghez. Devo dire che non è facilissimo pensare a un modello di gestione per le esperienze turistiche perché in realtà le esperienze in quanto tali possono essere progettate soltanto in parte e sicuramente non si può pensare di standardizzarle. Quando ho iniziato a studiare le esperienze turistiche mi sono resa conto che il prodotto turistico può essere considerato proprio in quanto prodotto esperienziale a tutti gli effetti come un prodotto edonistico così come è stato definito da Holbrook e Hirschman che si sono occupati molto di questi temi. Cioè è un prodotto in cui il consumo è fine a se stesso, il consumo è l'esperienza, cioè il bene non viene acquistato per soddisfare un altro bisogno che non sia proprio quello di vivere delle esperienze significative e di provare piacere. E fra questi tipi di prodotti edonistici ci sono molti servizi, molti beni materiali fra cui oltre al turismo anche ad esempio i giochi, i riti religiosi o la fruizione di beni per il tempo libero o di beni culturali. Quindi diciamo che in questo tipo di esperienza il ruolo delle emozioni diventa fondamentale. Questa definizione risale già al romanticismo e quindi la valenza emotiva è fortissima. Ecco perché oggi noi parliamo tanto di turismo ed emozioni proprio perché si sta riscoprendo questo aspetto che si era in qualche modo un po' dimenticato durante le vacanze di massa probabilmente, nella fase delle vacanze di massa. E anche il processo di acquisto di questi prodotti è diverso perché gli elementi materiali e in qualche modo gli elementi anche fortemente soggettivi diventano predominanti. Così come l'impegno del turista è molto forte, il turista è fortemente coinvolto sia in termini intellettuali che proprio in termini temporali. Quindi diciamo che una cosa importante da sottolineare è che per questo tipo di fruizioni il servescape, cioè quello che è l'ambiente fisico in cui avviene la prestazione ha un ruolo estremamente significativo, molto importante sia perché il cliente è presente presso l'azienda ed è fortemente coinvolto sia perché ha un contatto prolungato con l'erogatore e infine anche perché l'atmosfera influisce su ciò che il turista percepisce. E quindi in qualche modo se si riescono a offrire quelle che vengono definite a Shostak come delle esperienze sceniche il consumatore si può immergere in questa esperienza e l'immersione gli consente proprio di vivere un'esperienza profonda che come è stato già detto può diventare addirittura un'esperienza anche di crescita interiore e di trasformazione. È molto importante, e anche questo è stato già detto, ma purtroppo ci siamo trovati tutti a... cioè purtroppo è per fortuna i nostri interventi si stanno intrecciando chiaramente questa esperienza deve essere vista con un approccio olistico cioè non come una serie di fasi, una sommatoria di fasi ma come un'esperienza temporalmente ampia, un'esperienza unica quindi in cui le fasi di cui parlano anche loro nel libro Gates e Rossi, che loro chiamano pre-experience, in-experience e post-experience e voi lo chiamate ciclo di esperienze stesa quindi tutte le fasi vanno considerate con grande attenzione oggi in particolare la fase dell'anticipazione che grazie al web, grazie ai blog sta diventando molto importante influisce molto anche sui processi di formazione delle attese e di percezioni dopo aver fatto l'esperienza di vacanza così come anche la fase del ricordo e della nostalgia diventano estremamente significative. Diciamo che in qualche modo oggi nella società post-moderna i luoghi di consumo, quelle che vengono chiamate le cattedrali di consumo che sono i luoghi in cui avvengono i processi di acquisto, di consumo di erogazione, di fruizione che spesso sono delle mete turistiche, delle infrastrutture turistiche sono troppo vicine? delle infrastrutture turistiche o in generale delle risorse turistiche stanno cercando di rendersi sempre più interessanti agli occhi del turista attraverso dei processi che vengono definiti di re-enchantment cioè di riscoperta delle emozioni, dell'irrazionale, del mistero, della magia, della spontaneità questo lo fanno proprio per cercare di offrire delle esperienze memorabili come le chiamano Paine e Gilmore ai loro visitatori e cercano di farlo tramite per esempio delle architetture irreali, delle extravaganzas e cercano anche di essere dei contenitori polifunzionali questo è importante perché c'è una sovrapposizione di funzioni quindi non più solo turismo, non più solo commercio, non più solo ristorazione non più solo educazione ma tante di queste funzioni offerte insieme in questi grandi contenitori che oggi sono i parchi a tema, i musei, le linee di crociere, i casino, i ristoranti e così via quindi sta cambiando moltissimo oggi il panorama dei prodotti che riescono a offrire appunto delle esperienze perché le categorie di consumo si stanno così trasformando in luoghi sempre più magici, affascinanti e fantastici proprio perché cercano di attrarre più clienti ma anche di trattenerli per più tempo di fare in modo che acquistino di più e soprattutto cercano di offrire delle continue novità perché oggi il consumatore è spesso annoiato e quindi deve essere comunque affascinato da cose sempre nuove ecco che allora per esempio i musei si stanno trasformando ancora in Italia siamo un po' indietro in questo però cercano di diventare sempre di più degli spazi fortemente coinvolgenti per esempio offrendo delle ambientazioni tematiche, degli eventi simboli polisensoriali, colori, luci, immagini, suoni, odori anche realtà virtuali, laboratori, addirittura anche esperienze teatrali dicevamo prima spesso con sceneggiatori, coreografi e così via ma in tutto questo che ruolo ha il turista? il turista deve diventare sempre di più il co-creatore della propria esperienza di visita deve essere fortemente coinvolto in tutte le fasi non solo nella fase dell'erogazione io per anni ho studiato il management delle imprese e dei servizi è chiaro che durante l'erogazione di un servizio il cliente ha comunque un ruolo molto attivo crea da sé una parte del servizio ma qui parliamo anche di un coinvolgimento già nelle fasi precedenti nelle fasi di progettazione ma addirittura di concepimento del prodotto quindi l'offerta non può essere mai standardizzata mai completamente predefinita deve essere possibile personalizzarla in modo che si adatti alle esigenze di ciascun fruitore addirittura dovrebbe essere il fruitore a riuscire a personalizzarla per fare un uso personale appunto del service scape e di tutto questo si occupa molto la psicologia ambientale che studia proprio come il service scape vada a influire sui comportamenti delle persone presenti durante l'erogazione che poi lì sono tre tipologie cioè c'è il turista, ci sono gli altri turisti presenti contemporaneamente e poi ci sono anche chiaramente c'è il personale di contatto, il personale dell'azienda ci sono da studiare le interazioni fra questi soggetti le loro attese, le risposte emotive e cognitive del consumatore che vanno comunque a influire su quelle che sono le sue percezioni e le sue attese e il suo livello di soddisfacimento complessivo quindi c'è molto da lavorare su questo per cercare di trasformare il turista in quello che viene chiamato customizer cioè un cliente che però allo stesso tempo è un produttore un soggetto attivo che attraverso le proprie percezioni sensoriali crea la versione del servizio che è più giusta per sé in tutto questo gli operatori dovrebbero agire come dei commediografi come dei drammaturghi per cercare di offrire dei set tematici scusate tematici degli stimoli sensoriali degli stimoli sensoriali proprio perché attraverso la multisensorialità l'interattività si possono offrire delle esperienze fortemente coinvolgenti e in effetti oggi ne abbiamo sentito parlare già prima si parla molto di polisensorialità nel turismo anche Harry che aveva scritto nel Turist Gates soffermandosi soprattutto sulla vista che è ancora il senso dominante nella nostra cultura nell'ultima edizione di questo volume ha parlato invece di percezioni sensoriali più complete che riguardano tutti i sensi proprio perché sono interrelate quindi non avrebbe nessuna logica parlare solo di panorami visivi ma si parla anche di panorami olfattivi quelli che vengono chiamati cellscape panorami sonori, soundscapes, gustativi, test scapes tattili, geographies o touch sempre di più quindi ai visitatori vengono offerti ad esempio dei percorsi olfattivi hanno usando delle essenze oppure degli stimoli tattili nei musei si possono accarezzare non nei musei, scusa negli zoo o anche negli acquari capita di poter accarezzare delle amebbe, dei pesci, degli animali oppure stimoli sonori tipo la musica ambiente che può essere utilizzata per aiutare a concentrarsi durante una visita o delle installazioni multimediali quindi possono essere tanti questi strumenti che cercano di coinvolgere il turista e soprattutto di fare in modo che la sua attenzione sia concentrata nell'aspetto core dell'esperienza quello fondamentale andando a tralasciare le attività di supporto che secondo me dovrebbero essere il più possibile automatizzate e standardizzate per fare in modo che l'impegno del cliente sia minimizzato in queste fasi secondarie e che l'attenzione sia concentrata sull'aspetto core nel loro libro Gates and Ross parlano di experiential point che altri chiamano affordance e sono proprio degli strumenti che guidano il consumatore durante l'interazione favorendo anche la percezione attraverso i sensi e che creano quindi un legame durante la fruizione turistica fra l'individuo queste percezioni sensoriali e l'ambiente e sono importanti perché oggi sempre di più il turista li ricerca e possono creare veramente possono fare la differenza possono essere quegli elementi che voi chiamate elementi wow quegli elementi che attirano l'attenzione e che diventano elementi di differenziazione forti fra le risorse turistiche e fra i territori per esempio un sentiero che spinge a camminare a piedi nudi una cena al buio che consente di assaporare meglio i gusti un'atmosfera tranquilla che proprio perché priva di altri stimoli favorisce l'ascolto della musica di tutto questo si occupa appunto l'experience design e quindi questo è un modo per trasformare i turisti in coprogettisti e coproduttori delle proprie esperienze e capire che le risorse turistiche sono dei luoghi di interpretazione cioè cambiano a seconda di chi le fruisce in base a quelle che sono le attese i valori i bisogni i desideri le precedenti esperienze che sono fortemente eterogene da turista a turista quindi in qualche modo questo turista sempre più attivo voi dite nel libro che nel processo esperienziale il viaggiatore è parte attiva questo turista sempre più attivo che desidera adattare l'esperienza alle proprie preferenze le proprie aspettative ci deve far dimenticare l'idea di sceneggiature total quality zero difetto standardizzazione per cercare invece di valorizzare gli elementi di autenticità di cui poi ci parlerà Monica Gilli di novità di sorpresa come ad esempio un personale di contatto che interagisce in modo spontaneo delle atmosfere insolite dei layout poco razionali che consentono di incontrarsi anche di scontrarsi e che quindi sono appunto degli elementi di sorpresa e di novità che riescono a coinvolgere in maniera spesso inaspettata e in maniera comunque forte il turista grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti